L'incubo è finito per le comunità di Centola e Camerota. Alle 14 di ieri la provincia di Salerno ha messo l'ordinanza di riapertura della strada XS 562 Mincardina. La principale arteria di collegamento con le località costiere di Marina di Camerota e Palinuro era stata chiusa lo scorso 15 gennaio nel tratto tra il bivio del Ciglioto e quello di San Severino di Centola a causa della situazione di pericolo dovuta alla caduta di Massi. A comunicare la notizia è stato l'assessore provinciale e lavori pubblici Attilio Pierro. I lavori di messa in sicurezza erano stati ultimati il 21 febbraio grazie ad un finanziamento di sommorgenza di 45.000 euro da parte della regione Campania. Il tratto in realtà era già stato aperto abusivamente nella notte tra martedì e ieri dai gnoti che avevano rimosso e portato via le barriere di cemento posti a chiusura dell'arteria stradale. Lo stesso episodio si era verificato anche il giorno precedente con una rissa sfiorata tra alcuni automobilisti e il capo degli operai della provincia intervenuti per richiuderla. Quando vi è collaborazione e condivisione di intenti tra gli enti istituzionali, spiega Carmelo Stanziola, sindaco di Centola, alla fine si trova sempre la risposta alle problematiche. La riapertura della Mingardina lo dimostra. In poco più di un mese siamo riuscite ad ottenere il finanziamento di sommorgenza, eseguire i lavori e riaprire la strada. Ringrazio quindi la regione, la provincia, il Geno Civile, l'Ufficio Tecnico Comunale, la ditta e quanti si sono adoperati perché la strada riapressa in tempi rapidi. Ancora chiuso invece il viadotto della provinciale 430 Cilentana tra gli svincoli di Agropoli Sud a Pregnano Cilento a causa dello scivolamento verso valle di due piloni. Si è creato un dislivello di un metro circa, due le ditte impegnate sul posto, ma è molto difficile immaginare un'imminente riapertura in un tratto già funestato da oltre un anno da un'enorme frana proprio nei prezzi della galleria di Pregnano Cilento. Il sindaco Stanziola provocatoriamente rilancia, se i lavori sulla Cilentana non dovessero essere realizzati entro l'estate mi faccio promotore di iniziative volte a far scegliere ad automobilisti e turisti le uscite autostradali di Buonabitacolo e Padura. Alcuni automobilisti in realtà già da giorni segnalano la presenza di cartelli stradali nei prezzi dell'uscita di Battipaia e del raccordo Salerno Avellino che indicano per chi viaggia verso Vallo della Lucania e Sapri di uscire a Buonabitacolo.